Sono opere di vari periodi che attraversano anche tecniche diverse. Ci sono perfino 16 o 18 bozzetti di personalità, riprese, non si può dire dipinte, da Fanfani durante il periodo della Costituente. Dipinti e disegni realizzati nel corso della vita. A Vintore Fanfani, pittore, è il titolo della mostra dedicata al grande statista nel 25esimo anniversario della sua morte. Abbiamo immaginato che poteva essere una cosa interessante aprire il ciclo degli eventi che dedichiamo a Fanfani nel 25esimo della morte, partendo proprio da una dimensione un po' particolare della sua personalità, cioè quella di pittore. L'abbiamo fatta a Sansepolcro per due ragioni di fondo. Prima di tutto perché la Valtiberina è la terra di nascita e quindi sembrava giusto iniziare da lì. Secondo perché abbiamo individuato una location prestigiosa, che era appunto il Museo Civico di Sansepolcro, che era libero in questo periodo. E terzo anche perché una delle primissime mostre che Fanfani, pittore, ha fatto nella sua vita, era fatta a Sansepolcro. Le opere provengono in gran parte da collezioni private, altre dalla famiglia, soprattutto dal nipote Giuseppe Fanfani, avvocato, ex sindaco di Arezzo, da sempre appassionato di arte, oltre che pittore. Lui aveva cominciato a dipingere fin da bambino perché la nonna, la sua nonna era una pittrice polacca, e quindi figlia di un pittore e quindi evidentemente nel DNA c'era questa cosa. L'esposizione sarà inaugurata il 15 febbraio e resterà aperta sino al 17 marzo.